Benvenuti alla CSS, io sono Leandro, lui è David, lui è del terzo anno di Apprendistato OCC, io sono del primo anno di Apprendistato OCC e oggi vi faremo vedere una giornata tipica e come lavoriamo. Alla CSS Assicurazioni si ha un ambiente molto familiare, ci si aiuta molto l'un l'altro e appunto è molto importante, secondo me, avere un ambiente familiare. Mi piace molto al mio lavoro il fatto che posso aiutare un cliente e sapere che dopo che ha parlato con me ha risolto il suo dubbio e questa è una cosa che mi dà molta soddisfazione personalmente. Io dopo il mio Apprendistato in CSS vorrei andare a studiare marketing. Grazie mille ragazzi per la vostra attenzione, se vi è piaciuto candidatevi pure da noi alla CSS, io vi auguro una buona giornata e grazie mille ancora per la vostra attenzione.